Non solo il mondo dello sport ma l'Italia intera è sconvolta dalla notizia della morte dell'intera squadra del grande Torino. È il pomeriggio del 4 maggio il trimotore Fiat 212 proveniente da Lisbona dove il Torino aveva appena disputato una partita amichevole inizia la fase di atterraggio puntando all'aeroporto di Torino. Le condizioni meteo sono pessime, piove, ci sono raffiche di vento, c'è la nebbia, la visibilità non supera i 40 metri. L'altimetro si scoprirà poi, peraltro sembra impazzito. Sta di fatto che alle 17 e 3 minuti l'aereo si schianta contro il terrapieno alle spalle della Basilica di Superga. Non ci sono superstiti. 31 i morti oltre all'intera rosa dei granate da Bresciana. Mi piace ricordare il nostro Mario Rigamonti al quale verrà poi intitolato lo stadio di Brescia. Ma sull'aereo c'erano anche l'allenatore, i dirigenti, tre giornalisti, quattro uomini dell'equipaggio. Nessuno è sopravvissuto. In ricordo della strage di Superga, la Federazione Internazionale del Football ha indetto proprio nel giorno del 4 maggio la giornata mondiale del gioco del calcio.